La Rosanna è... Siamo sempre più su tutti questi anni qua, questi ultimi giorni, è una versione veramente di amicizia, non prima non fossimo amici, ma cresce sempre di più. La cosa bella, c'è il fatto di confrontarci su tutto quello che si può fare e quello che si è fatto guardando quegli errori, che tanti errori si possono fare, sicuramente ne abbiamo fatti tantissimi, ma sono sbagliato e possiamo imparare. Poi voi ci fanno esempio sicuramente, penso che non ho figliato per il fatto che è duro e adesso va tutto bene. Allora, la Rosanna, secondo me... Beh, ci conosciamo, cos'è? Corrante? Ma che argomento? No, 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 tranquilla, perciò io a vedere. Sono un po' ghialli, qualche mese da venire vicino. Vabbè, bellissimo. Allora, noi, non è inassato, non lo vediamo l'anno, però abbiamo detto, perché la Rosanna? La Rosanna è una cosa per noi, no? Quindi abbiamo pensato di andare a prendere la Rosanna di 1, 1 e 2. Per noi e per tutti voi, per quello che siamo in realtà. Anche siamo in realtà, ma con i secondi anni, che è stata una cosa bellissima, come sapete, come se c'è più, è apportita con il territorio, è apportita con il territorio, è apportita con il territorio. No, no, lei non lo sapeva, lei pensava che ne avessimo chiamata, questa associazione ha avuto un'attività, quindi adesso invece l'abbiamo chiamata per il premio. Per un premio? Ma, certo per un premio. Ma, addirittura... Rosanna, per tutti, uno come noi, con la resta in testa di una come noi, se c'è la base. Guarda, che te lo è meglio, che te lo è meglio, che te lo è meglio, vai. Adesso, signora Carolchina, la raggiunga di un sapere che parte, dove il due esi di colpa ha fermato il gara al palco, e adesso... Perché io? Sì, sai. No, però... Però questo premio lo divido in età con Augusto, eh? Per forza. E l'osso, non è il premio. Perché se... Se sono arrivato più in poi, grazie alla foto che mi ha dato un gusto, e che mi ha dato un resto in questi anni. Ma, niente. Ma, qui, io non mi spavano in testa con il premio. Lo lo so, non è il premio. Non è il premio. Allora, mi interessa. Grazie davvero a te, Rosanna. Ma, niente qua. Grazie a tutti.